C'è da migliorare le infrastrutture, è un problema di capacità della linea, però è indispensabile che RFI faccia degli interventi importanti per collegare due regioni importantissime e soprattutto per Milano, Genova è il suo porto naturale, quindi raggiungerlo con dei tempi adeguati e funzionare a un sistema economico macro regionale. Tra l'altro sarebbe straordinario perché per una città come Milano, che sulla Liguria si appoggia moltissimo, soprattutto durante il periodo estivo, vorrebbe dire cambiare anche la geografia. La geografia del territorio cambia, di fatto la Liguria si riavvicina a Piemonte e Lombardia come lo era tanti anni fa.